Caprari La allontana con forza Pallone lungo in verticale Un inizio di partita che chiamerei con un eufemismo prudente Quest'errore potrebbe esservi fatale Grunic con il suo pallone morbido Scodella in avanti Palla che torna nella zona del portiere Il portiere la spedisce su Il pallone ha superato la linea Rimessa laterale Etemai Redditch Gioca con un pallone lungo Ci mette il fisico E conquista il pallone Ibrahimovic Pallone Aveva un sacco di opzioni in area di rigore Ha crossato proprio male in questa situazione Calabria Le due squadre si temono Fabio Si vede dall'atteggiamento che hanno in campo Nessuna delle due si vuole scoprire Per offrire possibilità all'avversario Ibrahimovic Ibrahimovic Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol Ibrahimovic ha un grande senso del gol Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione Ibrahimovic Ibrahimovic Samo Castieco Non riesce a mantenere il possesso Decide di cambiare fascia Ibrahimovic Rebic Cerca di lanciare il compagno E il portiere la fa sua Palla riconquistata immediatamente Buonasera Samo Castieco Lungo passaggio in avanti Il portiere la calcia lontano Il Benevento avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi Camille Glick Si libera la grande Ibrahimovic Bella parata Grande parata dell'estremo difessore Sembrava aver sorpreso il portiere Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere gioco il mister vuole cambiare qualcosa Cialanoglu avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist Ottima pressione la sua Palla recuperata Chi è? Il Benevento Ha portato a casa i tre punti nell'ultimo turno anche se ha faticato non poco per superare l'avversario Un avversario che non ha mollato fino alla fine Benazè Che si Ecco il cross C'è il col E il portiere ci mette una perezza Ha perso un pallone sanguinoso Per poco non pagavano con il gol Samu Castieco Ottima la pressione difensiva C'è la palla lunga in avanti Rebic Cialanoglu Occasione E' un grande difesso qui Li lega la gioia del gol Che parata Non ha sbagliato nulla Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito Cialanoglu Alessio Alessio Romagnoli E poi gli abbia fatto bene Sembrano aver eretto un muro in difesa Rebic Ibraimovic Savu Castieco La gioco in profondità E non c'era nessun compagno smarcato E temai Con l'intercetto Intervento scorretto Che non sfugge certo al direttore di gara Cialanoglu Splendida reazione Tocco morbido Scatta verso il pallone E manca il cross per un soffio E temai Schiattarella Caprari Ottimo passaggio Cerca il tiro E' proprio questo che devono fare Devono insistere E in questo momento devono prendere dei rischi E' necessario Assolutamente Sembrava oltre la linea dei difensori Sì Banderina alzata Anche se il pubblico si lamenta E' stata una decisione presa in maniera corretta Mandzukic Ottimo il fraseggio Mandzukic Luca che mi dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai A questo punto possono solo gettarsi in avanti E sperare nel miracolo Cosa c'entra? Attenzione al tiro Attenzione al tiro Sarebbe stato davvero un gol bellissimo Peccato Sei mosso rapidamente nella preparazione del tiro Ma non è riuscito a attettuare la conclusione migliore C'è la Nobili Decide di battere il corpo Passaggio smarcante Ora deve segnare Schiattarella Schiattarella Bella apertura Va il cross Difesa molto distratta in questa occasione Non possono permettersi di perdere la concentrazione così Mandzukic Passaggio filtrante per Ibra e Inovic Mandzukic Riceve in aria E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero Il fischio finale è vicino Questa potrebbe essere l'ultima occasione Edemai E c'è il buono